buongiorno a tutti cari youtubers io sono la vostra re della veligenna e vi do il benvenuto in questo mio nuovo video che se ho già spoilerato tutto cavoli vi spiego tuttora allora questo non è un video di gameplay di nintendo x un nintendo più cats ma bensì sarà un piccolissimo video che ho provati con la memoria dell'iphone vi spiego tutto velocemente sì allora intanto vi faccio vedere velocemente il mio codice amico sì 42 70 45 98 perché fa zoom così 45 98 21 44 se sentite la voce sono mio papà e mia sorella perché mi sono riuscito a trovare il telecomando perché ieri hanno vabbè andato un attimo in camera sua perché mi stavano anche pulendo giù io dovevo vedermi una cosa ieri mattina vabbè in tv e quindi questo è il mio codice amico quindi se mi volete aggiungere e vi scaricate pic to posta possiamo messaggiarci perché non sapete sapesse non saprò in tanti che avranno visto il video di sala vabbè è tipo box box per inviare lettere a altri utenti anche via via street pass ma anche via spot pass ormai se avete tutto quindi non ve lo mostro neanche meglio perché se non veniva troppo lungo e quindi questo così se vi scaricate un attimo che chiudo pic to post pic to posta ci vediamo lettere via internet sì che bello che io adoravo post box era bellissimo e quindi ecco qua quindi volevo dirvi questa cosa può poi altre due piccolissime cose veloci riguardano uno primo i gameplay sì vi dico già che non potrò fare più tanti gameplay ne farò di rado vuol dire raramente perché ho problemi appunto con la memoria che dovete sapere che registro sto registrando anche adesso con il mio iphone 6 da 16 giga però mi continuo a dire che la memoria è piena bla 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 ma io guardate che non ho tante cose perché musica non ce l'ho neanche ho solo delle foto 40 foto quelle diciamo più importanti quelle con marty che ne ho fatto il in quixx non i zeppole quando ci siamo incontrate oppure quelle che ho fatto a gardaland che non sono neanche tante oppure se ho incontrato qualche vip qualche comico di colorado ecco e niente quindi boh e poi non ho neanche applicazioni ce ne avrò 5 o 6 applicazioni boh vabbè e quindi ora cercherò di trovare una soluzione e appena la trovo vi mostrerò anche un video di nintendox e se riesco prima cerco di andare abbastanza avanti con nintendox e dopo anche nintendo puccazza e niente quindi questo è quello che volevo dire anzi e dalla settimana prossimo vero 28 novembre 2016 lavorerò tutte le mattine presso peccati di gola dalle nove e mezza a mezzogiorno e mezzo quindi alla mattina sappiate che non potrò fare video perché sarò al lavoro già ecco quindi ho detto tutto spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un bel like commentate iscrivetevi mi raccomando lasciate qui sotto il vostro codice amico che così ci aggiungiamo e ci scriviamo lettere e niente quindi io vi do un saluto e alla prossima ciao